Buon pomeriggio e salve a tutti, la vedete, è la scuola di Atene, la fresco di Raffaello Sanzio che il Papa Giulio II volle all'inizio del Cinquecento, è una scuola di Atene vuota però, perché noi vorremmo riempirla con i vostri volti, vorremmo riempirla con i volti degli studenti che inizieranno a frequentare i nostri corsi di laurea in beni culturali, in storia, in filosofia perché i grandi maestri del passato rivivono attraverso il nostro sapere, la nostra conoscenza, l'approfondimento che tutti quanti voi farete scegliendo uno dei corsi di studio del nostro dipartimento perché i nuovi Socrate, i nuovi Platoni, Aristotele, Talete, Anassimandro tutti quei personaggi che vedrete nella raffigurazione del vero, del vero affresco di Raffaello Sanzio beh, chiedono di voi, chiedono di ognuno di noi perché il sapere possa diventare nostro e possa proiettarsi al futuro quindi io dandovi di nuovo il benvenuto e ringraziando i colleghi, il professore Esposito, il professor Volpe, il professor Spagnolo vi auguro un buon pomeriggio, vi auguro un bel percorso in questa camminata che è la prima camminata del vostro corso di studi in beni culturali, filosofia e storia ciao e un arrivederci mi fa piacere quindi dare la parola al professor Costantino Esposito per il corso di laurea in filosofia eccomi, buon pomeriggio a tutti sono come appunto appena detto Costantino Esposito e insegno storia della filosofia io vorrei in pochissimi minuti dire partendo dalla mia esperienza perché diciamo le cose più interessanti sono sempre cose che esprimono e mettono le radici in qualcosa che si è vissuto, che si sta vivendo e soprattutto vedendo il percorso che tanti ragazzi in questi anni stanno facendo con noi vorrei appunto provare a dirvi che tipo di esperienza è studiare filosofia alla Università di Bari io direi che innanzitutto è una scelta molto avventurosa perché non è scontata non è una scelta che innanzitutto si inserisce all'interno di un canone o di un pilota automatico naturalmente come diremo tra qualche istante c'è una struttura del nostro corso di studi in cui appunto c'è un'articolazione di tematiche, di ambiti, di esami, di prove, di laboratori ma per il corso di studi in filosofia credo che questo valga per tutti i corsi di studio ma per quello di filosofia in particolare il carattere avventuroso della scelta è che è aperto in maniera specifica al protagonismo e alla scoperta degli studenti di coloro che fanno il percorso nel senso che noi stessi docenti non siamo lì per dirvi che cosa dovete pensare, ricercare, vedere ma per fare appunto un percorso che aiuti che abiliti a affinare, a rendere più perspicua e a rendere anche più condivisa una certa visione delle cose quindi una scelta avventurosa perché parte dall'avventura forse più interessante quello di capire che cosa c'è al mondo e che cos'è quello che c'è è appunto un celebre modo con cui i filosofi tra i tanti altri hanno presentato appunto il loro lavoro capire che cosa c'è certo ciascuno di noi può dire ma aprendo gli occhi vediamo cosa c'è attorno a noi ma tante volte noi guardiamo le cose senza vederle senza renderci conto effettivamente di quello che sono perché le cose non sono mai lì fuori di noi e quando parlo di cosa parlo della natura bisogna capire che cosa c'è non è semplicemente qualche cosa in cui ci imbattiamo ma la realtà ci si presenta provocando sempre la nostra ragione a dare una risposta a cercare il senso per questo direi che studiare filosofia oltre che essere una scelta avventurosa è anche una scelta rischiosa in che senso? nel senso che si basa il suo obiettivo ad elaborare il rischio più importante che c'è vale a dire sottoporre tutto a critica guardate che spesso noi parliamo di questa nostra capacità di questa certa dimensione della vita anche sociale, politica, culturale, economica avere un senso critico ma il senso critico lo si impara il senso critico richiede che noi abbiamo quella spassionata disponibilità a verificare le cose come stanno che non parta da schemi preconcetti ma che abbia appunto la pazienza e l'attenzione di impegnarsi con quello che di volta in volta la realtà e la storia ci dicono infine è una scelta che punta sulla forza d'impatto della nostra ragione guardate è il lavoro della ragione il lavoro della filosofia e quando dico ragione non dico semplicemente una facoltà mentale che tutti quanti noi abbiamo quindi la nostra capacità di conoscere le cose di elaborare le cose di avere delle prospettive progettuali sulla realtà ma quando parlo di ragione la nostra lingua italiana come molte lingue ci permette di capire il doppio significato la ragione non è soltanto la nostra facoltà di conoscere, di comprendere le cose ma la ragione anche è il senso il significato delle cose bene, è proprio nell'unità tra la nostra facoltà razionale e la possibilità di un senso delle cose che si gioca il lavoro della ragione e come si gioca? si gioca soprattutto imparando a domandare forse questo vi sembrerà pochissimo e invece è tantissimo è forse il segreto di ogni protagonismo nella realtà, nel mondo, nella società perché per risolvere i problemi di qualsiasi problema si tratti a qualsiasi livello sociale, economico, politico o anche semplicemente i problemi dell'esistenza per poter risolvere i problemi bisogna saper porre le domande e tante volte noi non riusciamo a risolvere dei problemi perché non li vediamo non ci accorgiamo di quali sono le questioni aperte e dunque consapevolezza delle questioni d'utilità nel cercare soluzioni quando dico d'utilità vuol dire che le soluzioni non derivano da schemi precostituiti ideologici o pregiudiziali ma dal faticoso lavoro da questo corpo a corpo con la realtà e poi una condivisione sociale di queste prospettive di senso come questo ideale di formazione del curriculum filosofico si articola nella nostra offerta formativa come forse saprete come comunque andando sulla pagina web del corso di studi in filosofia triennale e di scienze filosofiche magistrale il primo appunto tre anni il secondo due anni e potrete appunto dal sito acquisire anche tutte le notizie tecniche sulla organizzazione del triennio e del biegno l'offerta formativa si sviluppa in due dimensioni una dimensione storica e una dimensione chiamerei così critica la dimensione storica storia della filosofia antica medievale moderna contemporanea storia delle dottrine politiche storia delle idee perché l'idea appunto che attraverso la consapevolezza di come si sono formati i nostri concetti e di come si è formato il nostro linguaggio noi possiamo avere una risorsa straordinaria strepitosa per essere consapevoli dei compiti che questa ricerca del senso e che questa costruzione sociale ci chiede oggi e poi un approccio critico filosofia teoretica filosofia morale filosofia estetica logica filosofia della scienza filosofia politica in cui cioè piuttosto che vedere i certi problemi nella loro evoluzione storica li si considera quasi in tempo reale quasi in contemporanea elaborando le tendenze le prospettive i dibattiti che nel nostro presente ci sono dopo la triennale si può accedere ad una laurea magistrale in cui in maniera molto più libera come scelta trasversale di diversi ambiti di applicazione della filosofia si possa arrivare a maturare un profilo professionale che può essere utilizzato la più la classica il classico sbocco professionale per filosofia tradizionale è quello dell'insegnamento nelle scuole ma sempre di più nell'industria culturale nella gestione delle risorse umane è richiesta è molto richiesta la attitudine mentale starei per dire che ha un laureato in filosofia appunto per questa capacità che un laureato in filosofia ha o speriamo che abbia dovrebbe avere secondo la nostra offerta formativa di cogliere con rapidità e al tempo stesso con con penetrazione quindi con approfondimento i problemi fondamentali a qualsiasi livello di applicazione io mi auguro guardate ho scelto in questa mia in questa mia presentazione che ormai è arrivata alla fine di non farvi vedere tante schemi riguardo ai piani di studio o agli sbocchi professionali ho preferito forse rischiando in questo comunicarvi di me dirmi dirvi tutto l'entusiasmo non semplicemente perché chiaramente essendo un professore di filosofia mi auguro che nel nel corso di studi in cui io lavoro possano arrivare degli studenti ma non è tanto questo questo è secondario ma diciamo ho puntato sul mio desiderio di tentare di comunicarvi l'entusiasmo per questo tipo di lavoro che è un lavoro che può lanciare in tante professioni può lanciare in tanti ambiti forte di una capacità critica e di di una potenza interrogativa di una capacità di mettere in questione il mondo che è forse la cosa che oggi è più richiesta anche nella nostra società totalmente digitalizzata abbiamo tantissime informazioni siamo strapieni di informazioni ma a volte mancano soggetti che le possano interrogare gestire e finalizzare e mi permetto di dire che il corso di studi in filosofia mira proprio alla formazione di questi soggetti vi ringrazio molto grazie costantino e ora la parola al professor giulio volfe per la presentazione del corso di scienze dei beni culturali buon pomeriggio e grazie per questa opportunità io mi avvarrò di un powerpoint perché sono un archeologo e mi occupo appunto di patrimonio culturale noi abbiamo l'abitudine anche a utilizzare le immagini e quindi preferisco postare io mi presento sono appunto Giuliano Volpe insegno archeologia ho insegnato a lungo in un'altra università sono stato anche rettore di un'altra università sono stato a lungo presidente del consiglio superiore dei beni culturali ora sono consigliere del ministro dei beni culturali per la formazione e la ricerca e sono tornato nell'università di Bari sono tornato dopo tanti anni perché io ho studiato nell'università di Bari e quindi ho avuto il piacere la voglia di tornare nella mia università nella quale ho avuto un'ottima formazione per restituire in qualche modo anche agli allievi dell'università di Bari insieme a tanti ottimi colleghi una formazione di alto profilo il patrimonio culturale è l'Italia l'Italia ha un enorme patrimonio diffuso fatto di grandi monumenti di grandi opere ma non c'è sito non c'è porzione del paese non c'è anche il luogo più sperduto che non sia ricco di patrimonio culturale di paesaggi straordinari di beni culturali dalla preistoria più remota fino alla contemporaneità e la nostra regione la Puglia e l'Italia sono ai vertici mondiali pensate è il paese col più grande numero di siti unesco ancora più della Cina che è pure enormemente più grande dimensionalmente dell'Italia l'Italia è piccolissima dal punto di vista geografico eppure ha una concentrazione la vedete su quella carta una concentrazione di siti unesco ma i siti unesco sono soltanto come dire la punta dell'iceberg di un patrimonio enormemente più diffuso ancora tutto anche da scoprire da far conoscere da valorizzare da gestire anche in maniera innovativa e noi quindi vorremmo formare dei professionisti del patrimonio culturale dei professionisti dotati di una formazione di base solida una formazione di base storica letteraria artistica antropologica solida ma poi anche metterli nelle condizioni di essere dei professionisti del terzo millennio capaci di usare le tecnologie capaci di ragionare e collaborare con le altre scienze con le scienze cosiddette dure con le bioarcheologie con le archeometrie con tutto il mondo della fisica della chimica applicata del patrimonio culturale il nostro è un profilo estremamente multidisciplinare guardate il paese italia ha nella sua carta di identità cioè nella costituzione nei principi fondamentali della costituzione italiana cioè veramente il dna del nostro paese della nostra comunità ha un articolo straordinario come l'articolo 9 che attenzione non solo dice delle cose fondamentali cioè tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca ma attribuisce questo compito alla Repubblica non a un singolo soggetto ma alla res pubblica cioè a tutta la comunità ma per fare questo servono dei professionisti servono degli specialisti servono delle persone competenti preparate in grado di svolgere anche in maniera nuova questa funzione e qui ci viene in soccorso una straordinaria convenzione una convenzione di faro sul patrimonio sul valore del patrimonio culturale per la società che attribuisce a noi specialisti agli specialisti ai professionisti in formazione e a chi come noi fa questo di mestiere un compito ancora più importante anche sotto il profilo sociale perché si tratta di dar vita a comunità di patrimonio cioè insieme di persone che siano in grado di attribuire valore al patrimonio culturale e questo è un grande una grande responsabilità che noi oggi abbiamo e che dobbiamo trasmettere ai nostri allievi la cultura non si è fermata nemmeno in questo momento tragico difficile anche con la sperimentazione delle modalità digitali e la cultura non si è fermata e si è capito in questo momento quanto sia importante il patrimonio culturale per una comunità coesa come quella italiana e si sono sperimentate nuove modalità e anche su questo noi vorremmo spingere coniugando formazione solida culturale anche alle nuove tecnologie digitali e non solo allora perché scegliere un corso di laurea in beni culturali perché appunto vogliamo fornire intanto come diceva il collega Costantino io mi trovo perfettamente in linea con la sua visione una capacità critica una solida formazione metodologica capace di consentire ai nostri allievi di essere in grado di affrontare i problemi nella loro complessità con vari sistemi di fonti non con specialismi settoriali incapaci di ragionare al di fuori del settorialismo specifico ma capaci di guardare l'insieme ovviamente con competenze specifiche ma con la capacità di dialogare con altri con altri saperi e tutto questo un corso di laurea in beni culturali articolato come vediamo fra un po' in vari profili lo consente e noi ci auguriamo appunto di comunicare ai nostri allievi non solo ecco vedete nel corso di laurea in beni culturali di tre curricula in beni archeologici in archivistico librari e storico artistici cioè tre grandi filoni del patrimonio culturale che però dialogano molto tra di loro chiunque sceglierà uno dei tre curricula avrà la possibilità continuamente di dialogare di conoscere altri sistemi di fonti altri metodi altri approcci altre sensibilità e questo lo facciamo con una enorme diacronia dalla preistoria l'antichità al medioevole l'età moderna fino alla contemporaneità con tutto il la produzione artistica antica medievale moderna con l'attenzione ai libri agli archivi e ovviamente alla cultura materiale ma noi proponiamo e questo è una peculiarità dell'università di Bari un percorso completo che non si interrompe che prevede delle lauree magistrali in archeologia in scienze storiche di documentazione storica in storia dell'arte e quindi la possibilità di fare un secondo livello di altissimo profilo e poi anche un terzo livello come vedremo fra un po' in questo ribadisco dando innanzitutto una formazione di base solida faccio solo un esempio anche chi non avesse studiato il latino noi forniamo una formazione di base che accompagni anche chi non ha avuto la possibilità di fare questi studi di poter acquisire le competenze necessarie con dei laboratori di latino base di formazione di base perché nessuno deve essere come dire messo non deve essere messo nelle condizioni di proseguire al meglio il percorso e poi abbiamo appunto insegnamenti caratterizzanti insegnamenti di base ma anche un'offerta formativa fatta di stage di tirocini di tante attività sul campo in laboratorio perché all'attività teorica fondamentale noi associamo strettamente nel campo del patrimonio culturale l'attività manuale anche cioè il conoscere direttamente il patrimonio il visitarlo ma conoscerlo fino in fondo toccarlo e studiarlo nella sua materialità anche immaterialità conoscere le tecnologie utilizzate conoscere tutte le metodologie per poterlo analizzare e poi interpretare e poi valorizzare e poi anche gestire e quindi anche un'attenzione agli aspetti giuridici economici con possibilità di esperienze a livello nazionale e internazionale con approcci appunto integrati tra sistemi di fonti tecnologie scienze linguaggi esperienze il nostro dipartimento è anche un dipartimento che offre biblioteche di altissimo profilo tra le più importanti in Italia nel nostro campo un'attività sempre efficace di orientamento di tutorato una mobilità internazionale abbiamo tantissimi rapporti a livello internazionale con università e centri di ricerca non solo europei e portiamo qui da noi nelle nostre esperienze anche studenti stranieri in maniera tale da poter integrare in questo senso le esperienze dei nostri studenti baresi con quelli di altre realtà i nostri laboratori laboratori di archeologia laboratori di storie moderne di paleografia il laboratorio audio video appunto le nostre biblioteche straordinariamente fornite anche di strumenti digitali quindi vedete una visione globale del patrimonio culturale una visione multidisciplinare che noi vorremmo fornire con la nostra passione con il nostro entusiasmo con la nostra competenza smettendo anche dei stereotipi quello classico che con la cultura non si mangia un vecchio stereotipo ma gli studi più recenti degli economisti dimostrano l'enorme potenzialità questo è uno studio Istat che dimostra quanto c'è da fare ancora per valorizzare il patrimonio culturale e fare di questo anche delle occasioni per migliorare le condizioni di vita le condizioni di lavoro per crescere far crescere economia sana pulita questi sono gli studi più recenti fatti dal MIBACT in questo senso sulla funzione dei musei perché ecco la cultura la cultura è una professione e il lavoro si paga ed è una professione che va garantita per questo negli scorsi anni c'è stata una legge importante voi sapete che nel nostro campo non abbiamo gli ordini professionali però abbiamo una legge che prevede per la prima volta la figura professionale degli archeologi degli archivisti dei bibliotecari dei demo antropologi degli agnosti degli storici dell'arte ecco e recentissimamente presso il ministero dei beni culturali si è istituito un elenco professionale al quale i laureati triennali poi magistrali e specialisti o dottori di ricerca potranno iscriversi in tre fasce separate che riconoscono le professioni ai vari livelli quindi è una professione riconosciuta finalmente nel nostro paese anche il codice dei beni culturali l'ha finalmente recepita e quindi non è più solo volontariato o solo passione che serve attenzione per fare questo mestiere ma è una professione riconosciuta e che deve essere anche garantita ci siamo sforzati a dare una formazione completa anche nel campo del terzo livello post laurea con un dottorato di ricerca importante in studi umanistici con vari percorsi un nuovo dottorato che parte quest'anno in patrimoni archeologici storici architettonici paesaggistici mediterranei che facciamo con il Politecnico di Bari e con il CNR che ha scelto la nostra università per fare questo dottorato internazionale con molti docenti anche di università straniere e che avrà sede a Bari quindi è sede amministrativa nostra e avremo molte opportunità da fornire ai migliori ovviamente studenti che potranno percorrere anche questa fase della formazione oltre ad una scuola di specializzazione in archeologia quindi tutto il percorso è garantito e abbiamo opportunità importanti anche dal punto di vista degli sbocchi lavorativi pensate che nei prossimi anni si prevedono non meno di 5.000 nuove assunzioni nel solo Mibact ma come vi ho detto noi cerchiamo di formare dei professionisti in grado di affrontare il mondo del lavoro in tutti i campi anche quello della libera professione o dei musei o delle altre ambiti della produzione culturale e quindi serve anche approfittare di questo momento difficile come una sfida come giusto che sia e qui do soltanto qualche altra informazione su dove siamo siamo in Palazzo Ateneo ma siamo anche nel cuore della città storica e siamo anche nel territorio a Monte Sant'Angelo e saremo ora anche a Taranto quindi abbiamo una presenza forte nel territorio ma con una visione sempre aperta al mondo intero e qui le informazioni su dove trovarci sul web e chiudo con queste informazioni questi contatti utili che credo possano esservi utili appunto perché siamo a vostra completa disposizione anche al di fuori di queste occasioni per darvi tutte le informazioni incontrarvi discutere con voi e soprattutto spero incontrarvi presto nelle nostre aule nei nostri laboratori nelle nostre biblioteche e sul campo grazie grazie a te Giulio e ora alla storia passiamo alla storia diamo la parola al professor Carlo Spagnolo per illustrarci il corso di laurea in storia e scienze sociali buongiorno buongiorno a tutti vi ringrazio di questa opportunità di presentare il nostro corso di laurea di storia e scienze sociali il corso di laurea di laurea di giornale e poi anche il corso di laurea magistrale in scienze storiche della documentazione storica è un percorso ambizioso quello che noi proponiamo i nostri studenti e io partirei prima di tutto dalla mia esperienza personale dalla mia passione per la materia per cercare un po' di comunicare agli studenti perché studiare la storia qui sovviene un po' la classica citazione forse di Marc Bloch grande studioso francese che parlava dello storico e delle ragioni di fare storia come una perenne diciamo ricerca di carne umana lui diceva Marc Bloch che lo storico in fondo è un po' come l'orco della fiaba cerca l'odore della carne umana e gli interessa appunto la storia delle società umane a che serve la storia insomma la storia è lo studio del cambiamento della società umana nel tempo è una forma quindi di costruzione di narrazione del passato che però non si limita a costruire delle narrative ma cerca di spiegare più in profondità la domanda più profonda sulle ragioni del cambiamento della società umana quindi lo storico è in qualche misura il custode dello spirito critico del presente cioè cerca di capire perché si arriva al presente attraverso quali passaggi che peso abbia il passato in un presente che è apparentemente piatto ma che spesso come dire noi non percepiamo invece la sua profondità la profondità che viene appunto dalla stratificazione degli eventi del passato delle culture e quindi il compito dello storico è un po' di dare profondità a un presente che altrimenti apparerebbe piatto e che spesso nella comunicazione pubblica nella comunicazione dei media oggi cerca tende a essere appiattito il compito dello storico è quello di dare profondità alla conoscenza del presente e di dare consapevolezza generale a tutta la società della complessità del presente quindi avere senso del contesto e della complessità lo storico cerca di collocare la conoscenza nei suoi contesti e quindi la storia è una disciplina che studia il passato ma è anche una dimensione epistemologica che investe tutto l'ambito della conoscenza per tutte le discipline voi sapete c'è una storia della matematica c'è una storia della medicina c'è una storia della società o delle società ma c'è appunto una storia generalista noi siamo generalisti cerchiamo di occuparci un po' di tutto ma poi ci sono storie specializzate per singoli settori quindi la storia è al tempo stesso con la ricostruzione della dinamica del passato e quindi un po' la memoria se volete della collettività umane ma è al contempo una dimensione della conoscenza ed è in questa dialettica tra queste due dimensioni che si regge l'interesse la curiosità l'importanza della disciplina storica noi come studiosi come diciamo intellettuali usiamo un termine un po' forte come insegnanti cerchiamo di formare degli studenti capaci di avere tutti gli strumenti per svolgere nel presente una funzione critica di sapere di contestualizzazione che abbiano sguardi profondi sul loro tempo e quindi che sappiano decostruire il loro tempo guardando in un'ottica lunga per questo noi ci curiamo di dare una formazione ampia ai nostri studenti che vada dalla storia antica ai giorni nostri il nostro corso di laurea tende spera prova a dare una formazione di questo tipo che spazi dalla storia antica fino alla storia contemporanea quindi passando noi abbiamo una ampia offerta didattica siamo tra i pochi atenei in grado di fare un'offerta così ampia abbiamo una grande tradizione di studi all'università di Bari che cerchiamo di difendere e di valorizzare anche nei cambiamenti del tempo odierno la filologia è quindi uno degli strumenti in cui noi ci avvaliamo la conoscenza del passato non passa solamente attraverso la conoscenza dei fatti ma attraverso la conoscenza dei metodi attraverso cui studiare il passato le società umane quindi la nostra laurea triennale adesso cercherò di condividere lo schermo per farvi vedere un po' qualcosa ecco io spero che si veda adesso un po' la nostra laurea triennale in storia delle scienze sociali comprende quindi un percorso a ciclo completo cioè della laurea triennale poi una possibilità di passare alla laurea magistrale in scienze storiche della documentazione e infine abbiamo anche lo sbocco per i migliori studenti anche di un dottorato in studi umanistici che ci aiuta a continuare il percorso di studi per approfondire in diversi ambiti disciplinari il percorso di studi il piano di studi che noi affrontiamo è appunto generalista per il primo anno letteratura italiana storia greca storia romana medievale economica sociale medioevo sociologia generale è un laboratorio dell'informatica noi cerchiamo appunto di dare agli studenti anche un'apertura nuova nell'uso consapevole degli strumenti digitali cerchiamo di attrezzare fin dall'inizio le nostre lauree ci induce ci sollecita a usare la conoscenza storica come leva critica per affiancare la comunicazione del passato con gli strumenti tradizionali della filologia e della conoscenza critica del passato in modo tale da rendere più fruibile più consapevole l'uso per le nuove tecnologie anche le nuove generazioni spesso le narrazioni che passano attraverso la rete segnalano a volte inconsapevolemente a volte con più consapevolezza una domanda di storia molto forte una domanda di conoscenza del passato che ha a che fare molto con le trasformazioni della globalizzazione cioè l'età contemporanea le nostre trasformazioni più recenti che ci hanno aperto tanti canali di comunicazione con il resto del mondo interrogano a maggior ragione sul nostro presente su chi noi siamo su da quali storie noi veniamo le differenze fra le società umane che oggi interagiscono in maniera così stretta e questo quindi sollecita una conoscenza storica sempre più approfondita e sempre più consapevole quindi il rapporto tra chi sono io e chi sono gli altri alimenta sempre nuove domande e questa definizione dell'io e del noi è una definizione che nel tempo si modifica e questo è un po' oggi credo uno dei compiti principali che gli storici si stanno assumendo che è quello di essere consapevoli delle sfide del loro tempo di come rapportarsi agli altri in maniera dialogante e saper affrontare la complessità che significa un confronto sempre più stretto fra società che un tempo erano molto lontane che oggi si stanno avvicinando ma in questo avvicinamento delle società umane c'è anche un latente rischio di conflitti e questo compito degli storici è anche quello di sciogliere attraverso la cultura attraverso la conoscenza i rapporti tra le società umane e anche capire come noi siamo cambiati nel tempo quindi renderci conto di come sia importante conoscere gli altri attraverso la conoscenza della propria storia quindi in questo senso la nostra esigenza metodologica di insegnanti di docenti è quello di mettere in condizione gli studenti di approfondire sia l'età medievale sia l'età antica storia romana storia greca ma anche letteratura latina storia moderna storia contemporanea le lingue straniere e infine arrivare a un terzo anno in cui noi allarghiamo ulteriormente la conoscenza metodologica ad altre discipline storia economica storia della filosofia cerchiamo di garantire il più ampio arco metodologico ai nostri studenti che abbiano una visione ampia del mondo che credo poche discipline come la storia riescano a rendere consapevoli le persone gli studenti della complessità della società umana e delle loro interazioni nel tempo quindi la storia in questo senso è una disciplina che apre terreni trepitosi di ricerca e il compito della storia appunto è quello di proporre nuove domande capire meglio il proprio presente da profondità ma è un campo aperto di ricerca di senso anche sul passato e in questo senso credo che credo di aver detto già forse abbastanza per quanto riguarda insomma i compiti che la nostra laurea triennale si propone di assumere e di svolgere la laurea magistrale invece porta con sé un livello di punto specializzazione superiore e due profili uno più prettamente di scienza storica e l'altro più orientato verso l'archivistica e la gestione delle biblioteche e quindi i beni librari questo non significa che appunto poi le due non si integrano tutt'altro sono strettamente integrate da loro è un'unica laurea interclasse che ci permette appunto di avere una ampia offerta formativa le scienze storiche in particolare noi rafforziamo naturalmente lo studio della storia romana fino ai giorni nostri io essendo io stesso un contemporaneista mi permetto di fare un po' dare testimonianza ecco del mio interesse per la contemporaneità la storia contemporanea come voi sapete parte dalla rivoluzione francese fino ai giorni nostri e la mia passione anche deriva dalla consapevolezza insomma dalla scoperta continua di quanto complessa sia la trasformazione sociale e di quanto difficile sia rendersi conto fino in fondo quindi della dinamica delle società europee che sono al centro del nostro studio io sottolineo che le nostre lauree hanno in fondo grande apertura all'intera storia europea certamente ovviamente la storia dell'Italia è un po' un filo conduttore perché la storia dell'Italia è una storia molto lunga molto complessa molto stratificata ma noi cerchiamo di dare grande spazio alla storia europea abbiamo molti progetti in corso abbiamo molti progetti di ricerca il nostro un dipartimento molto vivace per fortuna abbiamo tanti colleghi che stanno nuove reclute e abbiamo anche tanti progetti di ricerca in corso compresi alcuni progetti nazionali europei uno di questi sono anche io responsabile abbiamo quindi una continua alimentazione di stimoli per gli studenti e a disposizione una serie di strumenti anche digitali di questo non vi posso narrare però la nostra attenzione è di mettere gli studenti in grado di affrontare in modo nuovo l'uso consapevole delle discipline umanistiche attraverso la loro interazione con gli strumenti digitali quindi lo strumento digitale che non è solamente un ausilio ma è qualcosa di più è anche un modo nuovo di comunicare la storia è un modo nuovo di rapportarsi al passato è anche un modo di studiare di gestire l'archivistica le biblioteche e anche di fare ricerca storica quindi oggi la ricerca storica non si fa solamente anche certamente si fa negli archivi anche nelle carte polverose ma si fa molto anche attraverso il computer attraverso le ricerche collettive i grandi progetti di ricerca noi offriamo grandi opportunità abbiamo decine e decine di accordi Erasmus con altre università facciamo progetti di ricerca interateneo quindi siamo per fortuna un dipartimento molto dinamico che agli studenti spero offra opportunità di ogni genere per muoversi per fare esperienze noi vorremmo essere ponte non solo rispetto rispetto ad altre discipline ed altri saperi ma anche rispetto ad altri istituti ed altre sedi abbiamo una serie di stage e tirocini con centri culturali biblioteche librerie fondazioni con cui noi quotidianamente interagiamo e svolgiamo attività comunicative di ogni tipo se voi guardate il sito del dipartimento il sito della mia cattedra Monnet voi troverete tante occasioni di studio di incontro di approfondimento ecco il dipartimento è davvero molto ricco di iniziative io credo che questa esposizione insomma per ora possa essere sufficiente per dirvi grosso modo ecco e in che direzione si muove la ricerca storica naturalmente gli sbocchi professionali sono i più vari dal giornalismo alla pubblica amministrazione alle biblioteche appunto alla gestione diciamo così di rapporti per le pubbliche amministrazioni ma anche e forse più tradizionale lo sbocco diciamo dell'insegnamento che adesso ha un percorso di specializzazione ulteriore insieme all'attività che noi facciamo insomma poi i percorsi per la formazione di insegnamento sono anche specifici ecco in ultima istanza il terzo ciclo il dottorato il dottorato naturalmente è riservato diciamo una selezione molto rigorosa sul dottorato abbiamo diversi curricula dottorali che vanno appunto dalla storia in senso stretto da medievalità contemporanea filosofia storia antica antichistica storia della scienza abbiamo insomma una gamma di opportunità che ci garantisce una buona qualità di insegnamento noi speriamo anche di avere come dire così una qualità di studenti che cresca insieme a noi l'università e il nostro dipartimento è una comunità di studi noi ci teniamo molto a sottolineare questo aspetto di comunità con gli studenti non è solamente l'insegnamento ex cathedra che si fa da noi è molto invece laboratorio seminari esercitazioni collettive e il rapporto con gli studenti è molto stretto tra i docenti e i studenti questo è una credo delle caratteristiche migliori del nostro dipartimento io spero di vedere molti giovani bravi che facciano studi storici chiuderei qua e vi ringrazio